Il primo fattore chiave per il progetto di una vettura così differente dal passato è la gestione dei tempi. Occorre lasciare molto più tempo del consueto alla fase di impostazione, quella in cui si sviscerano i regolamenti per spremere ogni possibilità di guadagnare prestazione, quella in cui si esplora un gran numero di soluzioni con studi, simulazioni e prove a banco. Il secondo fattore chiave è il coinvolgimento e la responsabilizzazione di ogni singolo progettista, in modo che ciascuno senta quanto è emozionante e unica la sfida rappresentata da questa rivoluzione regolamentare. In assenza di riferimenti dalle stagioni precedenti, a fare la differenza è la creatività e il talento di ciascun progettista, la bontà dei strumenti di analisi, la lucidità e il coraggio di scegliere la soluzione più promettente anche se non è quella più convenzionale. Il terzo fattore chiave è l'integrazione e il dialogo tra i diversi gruppi, tra chi si occupa di prestazione, di progettazione, di produzione, di acquisti, di controlli qualità, di montaggi, di prove al banco, di pianificazione, di gestione in pista fino ad arrivare ai piloti stessi con il loro feedback. La solidità del progetto si ottiene dall'incontro dell'esperienza e della competenza di tutti i reparti.